Salve, sono Michele Disita, sono di Prato, mi occupo, sono un agente di commercio, mi occupo di abbigliamento e tessuti. Mi sono avvicinato al mondo del trading da diversi anni, ho iniziato a prendere le prime nozioni attraverso YouTube, canali YouTube, e appunto ho conosciuto Earforex, Arduino, ho seguito tantissimi video di Arduino e piano piano mi sono appassionato sempre di più, ho compreso appunto il sistema con il quale Arduino porta avanti questo concetto, il trading. Mi ha appassionato molto questa sua capacità di trasmettere le nozioni ed è molto importante questo, perché è stato facile, è facile capirlo Arduino, quindi ho deciso ad un certo punto di entrare nel suo mentorship platinum per approfondire l'argomento. Devo dire che in pochi mesi, sette, otto mesi, sono cresciuto moltissimo sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista tecnico. Poi ho voluto cominciare un'altra avventura con Earforex sempre, aderendo alla loro accademia ed è stato molto importante, fondamentale per me, perché in questo frangente ho compreso con profondità quanto importante sia anche l'aspetto del mindset. Questo è fondamentale nel trading, in affiancamento alle nozioni tecniche. Premetto che di questa materia ero fino a qualche mese fa completamente ignaro, o comunque conoscevo veramente molto poco di quanto poi ho sentito in queste settimane, in questi mesi. Devo dire però è affascinante perché si riescono, ora ci si rende consapevoli di come funzionano certe dinamiche interiori, quindi ci si rende conto di quanto influiscano, e non solo nel trading, ma anche nella vita normale, nei rapporti interpersonali, anche a livello professionale, di quanto siano influenti. E dunque conoscere queste dinamiche può portare, porta sicuramente a migliorare il proprio essere, il proprio rapporto con gli altri e con se stessi soprattutto, perché è importante vivere tranquilli in equilibrio, gestire le emozioni, spero, questo è il mio obiettivo almeno, quello di non essere vittima di impulsi interiori che portano poi a fare delle operazioni o a chiudere delle operazioni quando non vanno chiuse o ad aprirle quando non vanno aperte. E quindi questo è fondamentale, no? E oppure di non entrare in un'operazione basandosi soltanto sulla previsione, sulla volontà di vedere il prezzo andare in una certa direzione, ma basandosi soprattutto su elementi effettivi, realistici, diciamo, che il grafico mostra, diciamo, ecco, questo è importantissimo per me. Quindi non è molto che sono nell'accademia, ma già basta, è bastato a me per capire quanto importante è approfondire questo argomento, sono sicuro che fra non molto sarò capace di gestire le emozioni che giocano contro, che possono giocare contro il buon esito nell'attività del trading.